e ritornati in questo nuovo video oggi come avrete letto dal titolo vi devo parlare di questa roba visto che faccio fatica a fare i video visto che con la settimana, con la scuola con tutte le robe personali non riesco a fare nessun video quindi per questo non sto pubblicando da tre giorni poi se vi ho detto che questo video lo sto facendo il venerdì quindi direi io direi di giocare un po' nel mio mondo a parte quello mi voglio preparare per una live perché anche la la grazie a tutti 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 miniature che mi fanno partita la bisogna pensare un po' quindi a parte che le views hanno fatto un boom assurdo c'è prima facevo fatica a fare 10 views ora che sono riuscito a fare 100 quanto 130 views una roba del genere che a parte che fa via il video malamente la c'è poi queste tene le useremo in live per stasera poi 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 io ho fatto qua tutto allora vuol dire di prendere un po' di shulker un po' di sabbia poi lo stesso fare spettate controllo una roba che siamo da 5 minuti allora quindi se faccio fatica a fare i video che devo dirvi è così fare lo youtuber non so ne c'è la schermo nero ma vabbè lo so che è difficile fare